Ciao, ciao, ciao amici! Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi guardate come mi sono vestita per fare questo video con la mia migliore amica. Saluta! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Oggi la mia migliore amica indovinerà i tricker. Vediamo se sarà in grado e iniziamo subito. Ok. Che tricker è? Il pennello da trucco. Brava! E quanto gli dai di voto? Sette e mezzo. Non ti piace tanto? No, preferisco il pennello. Ok, cambiamo. Tricker! Vai! Non sarà subito. Per cosa? Non so. No. Che foto gli dai? Molto pennello. Ti piace? Ok. Adesso andiamo con il prossimo tricker, trickerello. Allora. Andiamo, sento via. Questa è la crema. È vero. Quanto gli dai? Sette. Perché non c'ho le unghie? Allora. Andiamo adesso col prossimo. No, questo è tantissimo. Questa è tantissimo. Questa è tantissimo. Dieci. Stai fermando. Adesso questo qua. Questa è tantissimo. Questa è tantissimo. Con cosa? Te lo faccio vedere. Quello destro. Ti la posto. Ok. Adesso andiamo con un nuovo tricker, trickerello. Questa è la bolla. Bravissima. Esatto. Che foto gli dai? Nuovi e mezzo. Ti piace? Tantissimo. Ok. E come si chiama questo? Un... Water sounds. Ok. Adesso. Indovina questo. Cos'è? Cosa? E' la spugna quella che copre il microfono? No. Non lo so. Prova a indovinare. Niente. Proprio non ti metti niente. Una spugna. Si utilizza nei capelli. Ah, la spazzola. Si. E ora. Tutti in avanti. Adesso. Andiamo avanti. Questo lo utilizzi molto a casa. Cos'è? 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 Il fuori dei piatti. Brava. Questo no. Io utilizzo. Non utilizzi. No. Io lo utilizzo. No. Esatto. Perché dovete sapere che Priscilla, ovvero io, non pulisce i piatti. Ma se li fa fare dal maggior domo. Ovvero che non ho quindi praticamente la mia casa è un bordello. Proprio. Un bordello. Un bordello. Un bordello. Un bordello. Adesso questo è difficile. Vediamo se indovini. Sì. Proprio niente. Ti viene in mente? Ah. E' il... E' questo. E' questo. Sì, esatto. C'è un sierum. Ok. E' un sierum per il viso. Ok. Adesso. Ci siamo. Vediamo. Devo scegliere qualcosa. Questo come? Vediamo. Questo che mi raccomandò. No. E' un barattolino. Sì, ma di cosa? La maschera è il viso? No È di vetro Dello scrap? Non lo so È piccolino Con un occhio? No Il palmo È questo Ah è proprio un gatto regalato Sì Adesso vediamo se indovini questo Questa è la crema? Più precisamente che cos'è? La crema con? No Si usa per il viso? La crema con la che ho sentito? No Quella è la maschera? Sì Eccola Ah quella d'argilla Esatto Che io utilizzo per le mie quotidianità Che in realtà non utilizzo mai Sì esatto Perché sono molto stampita Adesso Adesso Dobbiamo scegliere altre cose Che io non ho qui sotto Vediamo Ok vediamo questo Cos'è? Che cos'è questo? Che cos'è questo? È la scala No 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 Me l'hai dato tu Ah No Il foglio Ok di cosa? Ho scritto io la lettera No Sta là Quello che mi ha scritto Quello che mi ha scritto Quello che mi ha scritto È questo Ah quello di Mirabila È quello di Mirabila No sponsor No sponsor Siamo agli ultimi trigger Vediamo Allora Vediamo questo Questo non è facile Sono tante cose Messe insieme Cos'è? Si usa per rimuovere i pensieri Ti arrendi Ti arrendi Ti arrendi Ah Le spi Per la bambolina voodoo Ah ok Infatti amici Io li utilizzo per i miei arredi Che faranno contro di me? No tranquilla tesoro Ultimo trigger Sentiremo questo Per quando è rilassato È vero Dammi lo so Ultimo trick Cos'è questo? Non è quello che pensi La spazzola? No Pettine? Sì Guarda che bello No Che bello No Le regalamelo Giammai Adesso Noi dobbiamo Concludere questo video Perché ne dobbiamo fare Tanti altri Vi saluto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Se vi è piaciuto questo video Con la zia Mary E noi ci vediamo Al prossimo video Saluta Ciao Grazie Ciao a tutti Ciao 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 Ciao